benvenuti o bentornati sul mio canale io sono silvia e nel video di oggi scopriremo insieme passo passo come realizzare la masa un modello di borsa molto conosciuto che ho preparato per voi in una mia personalissima versione ho realizzato questo modello interamente infilato e ho aggiunto solamente due piccoli anelli in metallo con moschettone ho utilizzato i punti base dell'uncinetto per una lavorazione particolare che vi spiegherò passo passo punto di forza di questo progetto non c'è alcun segno di cucitura infatti la borsa sembra lavorata in un unico pezzo realizzabile quindi anche dai principianti potrete utilizzarla per qualsiasi stagione e replicarla con qualsiasi tipologia di filato io ho scelto un filato super particolare 100 per cento italiano di cui parlerò tra pochissimo quali sono le dimensioni del mio progetto ho voluto esagerare 35 centimetri in larghezza per 35 centimetri in altezza fino alle punte se consideriamo anche il manico 55 centimetri totali all'interno del box informazioni subito sotto il video troverete tutte le indicazioni per l'acquisto dei materiali e se questo tutorial sarà di vostro gradimento vi invito a farmelo sapere con un bel pollice in su e un commento proprio qui sotto il video andiamo quindi a scoprire insieme questi meravigliosi materiali che ho utilizzato e a realizzare insieme la nostra borsa masa il filato per questo progetto è inda di borgo de pazzi firenze 100 per cento made in italy e 100 per cento polipropilene la singola rocca ha un peso di 500 grammi per una resa di circa 570 metri ferri e uncinetto consigliato numero 3 questa tonalità questa sfumatura dal marrone più scuro al marrone più chiaro si ripete in modo continuativo lungo tutto il nostro filato e la trovate nella tabella colori con il codice numero 25 e questa è solamente una delle tantissime tonalità disponibili per questo filato e lo andrò a lavorare utilizzando un uncinetto tre mezzo ricordate di adeguare il numero di uncinetto alla tipologia allo spessore del filato che scegliete di utilizzare ma soprattutto alla vostra mano di lavorazione avremo poi bisogno di un ago con una cruna abbastanza grande per il nostro filato e di un paio di forbici e per la tracolla andrò ad utilizzare due anelli in metallo con moschettone la nostra borsa è formata da tre pannelli che vengono poi piegati e cuciti questi tre pannelli devono essere uguali e devono essere dei quadrati dobbiamo quindi avere la stessa misura in centimetri in larghezza e in altezza non fatevi ingannare dalla prospettiva della fotocamera questo è uno dei tre pannelli che andremo a realizzare insieme misura 25 per 25 centimetri compreso il giro di perimetro o scontorno come variare le misure dei pannelli e di conseguenza le misure della nostra borsa dobbiamo giocare con il numero di catenelle iniziali per ottenere questa lavorazione ci servirà una base di catenelle dispari aumentando o diminuendo il numero di catenelle andremo a variare la larghezza del pannello e di conseguenza anche la sua altezza le due misure dovranno infatti essere uguali come capire in base al numero di uncinetto alla tipologia di filato e alla vostra mano di lavorazione quante catenelle avviare dovete realizzare un piccolo campione avviate un certo numero di catenelle dispari ed eseguite alcuni dei giri di lavorazione che vedremo insieme passo passo dopo di che fate le opportune proporzioni attenzione vi consiglio di prendere la misura in centimetri sul vostro campione dopo aver eseguito almeno sei giri di lavorazione perché questa trama questa texture va a variare la misura in centimetri rispetto a quella che potreste ottenere misurando le catenelle iniziali tenete poi presente che a quelle misure dovrete aggiungere il giro di perimetro scontorno questo giro di perimetro solitamente va ad aggiungere mezzo centimetro su ciascun lato del vostro pannello per ottenere infatti un pannello misura 25 per 25 centimetri ho avviato nel mio caso 31 catenelle dopo alcuni giri queste 31 catenelle mi hanno portato ad un pannello di misura 24 centimetri aggiungendo poi il giro di perimetro scontorno ho raggiunto la misura definitiva di 25 per 25 centimetri ho già realizzato uno dei miei pannelli vediamo ora come realizzare il secondo ripetendo esattamente gli stessi passaggi che ripeteremo poi per eseguire il terzo pannello prendo l'uncinetto questo filato e nel mio caso vado ad avviare 31 catenelle completate le mie catenelle dispari 31 vado ad aggiungere una catenella di supporto per un totale di 32 partendo dall'uncinetto torno poi indietro alla penultima catenella lavorata la numero 31 entro all'interno della catenella e lavoro un punto basso proseguo lavorando una maglia bassa singola in ciascuna catenella che mi si presenta fino ad arrivare al termine del mio giro al termine del giro se avrò lavorato correttamente avrò un totale di 31 punti bassi lavorata all'ultima maglia bassa realizziamo una catenella di supporto e voltiamo il lavoro essendo di supporto questa catenella non va a sostituire alcun punto in questo giro ripetiamo i passaggi che abbiamo appena eseguito nel giro precedente dobbiamo quindi lavorare una maglia bassa singola su ciascun punto che ci si presenta fino al termine del giro partendo quindi dal primo punto disponibile lavoriamo una maglia bassa su ciascun punto che ci si presenta se nel giro precedente avevo un totale di 31 punti al termine di questo giro dovrò avere sempre 31 punti completato il secondo giro realizziamo sempre una catenella di supporto e voltiamo il lavoro questi due giri che abbiamo eseguito a punto basso sono giri di preparazione per la lavorazione del nostro pannello questa lavorazione non ha un nome preciso si ispira però nei passaggi al punto canestro all'uncinetto andremo infatti ad alternare una maglia bassa normale ad un punto canestro ma rispetto alla lavorazione tradizionale andremo ad eseguire un giro in più il nostro punto si basa quindi sulla ripetizione di tre giri di lavorazione vediamo il primo sul primo punto che ci si presenta l'ultimo lavorato nel giro precedente andiamo ad eseguire un punto basso per eseguire il punto canestro non andiamo ad entrare qui sotto alle due costine che compongono il punto ma scendiamo alla sua base tra la prima e la seconda riga di lavorazione entriamo con l'uncinetto prendiamo il filo lo portiamo attraverso e allunghiamo verso l'alto prendiamo il filo e andiamo a chiudere come se eseguissimo un punto basso normale ed ecco qui il nostro punto canestro dobbiamo alternare una maglia bassa a un punto canestro per tutto il giro quindi nel punto successivo lavoriamo un punto basso normale nel seguente un punto canestro quindi non entriamo qui ma entriamo alla base del punto prendiamo il filo lo portiamo attraverso allunghiamo e chiudiamo il punto proseguiamo quindi alternando una maglia bassa normale ad un punto canestro fino ad arrivare al termine del nostro giro se abbiamo eseguito correttamente la nostra sequenza il penultimo punto del nostro giro sarà un punto canestro l'ultimo punto del giro sarà invece un punto basso normale vediamo ora come eseguire il secondo giro il giro di ritorno della nostra lavorazione realizziamo sempre la nostra catenella di supporto e voltiamo il lavoro il secondo giro o giro di ritorno è molto semplice lavoriamo una maglia bassa singola su ciascun punto che ci si presenta senza variazioni partendo quindi dal primo punto disponibile lavoriamo una maglia bassa singola fino ad arrivare al termine del nostro giro catenella di supporto voltiamo il lavoro e vediamo come eseguire il terzo giro della nostra lavorazione questo giro è molto simile al primo ma con una variazione all'inizio e al termine del giro come nel punto canestro classico dobbiamo alternare maglia bassa e punto canestro in modo differente rispetto a quello che abbiamo eseguito nel nostro primo giro per fare questo nei primi due punti del nostro giro andiamo ad eseguire una maglia bassa singola quindi entriamo nel primo punto maglia bassa secondo punto maglia bassa e da qui possiamo riprendere con la nostra sequenza di punti alternare un punto canestro a un punto basso normale il punto canestro lo prendiamo qui alla base del punto tra il nostro primo e secondo giro di lavorazione con questo punto quindi non vado ad entrare qui scendo punto canestro il punto successivo sarà un punto basso normale punto canestro e punto basso se lavoriamo correttamente i punti canestro del terzo giro cadranno esattamente al centro tra i punti canestro che abbiamo eseguito nel primo giro vedete infatti uno e due punti canestro quello che abbiamo appena eseguito cade esattamente al centro proseguiamo quindi con la nostra sequenza fino ad arrivare agli ultimi due punti nel nostro giro se abbiamo lavorato correttamente il terzo giro che comincia e termina sempre con due maglie basse singole il primo giro invece comincia e termina sempre con una sola maglia bassa per tutta la nostra lavorazione vige una sola regola fondamentale tra il primo e il terzo giro deve esserci sempre un giro di ritorno a punto basso quello che abbiamo visto qui come nostro secondo giro e questi tre giri sono quelli che dobbiamo alternare per tutto il nostro pannello avendo completato il terzo giro avremo ora l'istinto di ricominciare dal primo ma cosa abbiamo detto tra il primo e il terzo ci deve sempre essere un giro di ritorno a punto basso quindi completato ora il nostro terzo giro ripetiamo i passaggi che abbiamo visto nel secondo andiamo infatti a lavorare una maglia bassa singola su ciascun punto che ci si presenta fino al termine del giro dopodiché possiamo riprendere con la nostra sequenza di punti lavorare quindi il primo il giro di ritorno il secondo lavorare poi il terzo giro e ricominciare quindi la sequenza dei nostri giri sarà questa primo secondo terzo giro secondo giro primo secondo terzo giro secondo giro primo secondo terzo giro e così via ripetiamo questi passaggi giro dopo giro fino ad ottenere un pannello quadrato dobbiamo quindi avere la stessa misura sia in larghezza che in altezza nel mio caso il mio pannello ha una larghezza di circa 24 centimetri quindi ho continuato a lavorare fino a raggiungere questa misura anche in altezza in tutto ho lavorato con i giri che vi ho mostrato per un totale di 40 giri di lavorazione andiamo ora ad eseguire un giro di perimetro o scontorno del nostro pannello realizzata come sempre una catenella di supporto al termine del mio ultimo giro volto il lavoro e procediamo lavorando una maglia bassa singola su ciascun punto che ci si presenta fino ad arrivare all'angolo opposto arrivate all'angolo nell'ultimo punto disponibile lavoriamo questa sequenza di punti maglia bassa una catenella e ruotiamo il lavoro nello stesso punto lavoriamo una seconda maglia bassa questa combinazione maglia bassa catenella e maglia bassa nello stesso punto di base è quella che dovremo ottenere in ciascun angolo proseguiamo ora lavorando una maglia bassa per ciascun giro di lavorazione fino ad arrivare all'angolo opposto nell'ultimo punto disponibile prima delle nostre catenelle lavoriamo la sequenza per l'angolo maglia bassa catenella ruotiamo il pannello e una maglia bassa sempre nello stesso punto davanti a noi abbiamo le catenelle con le quali abbiamo avviato il pannello il punto basso per il giro di perimetro lo andremo a prendere qui sulla prima riga di lavorazione che abbiamo eseguito quindi non entriamo nella catenella ma alla base del punto sottostante in questo modo e proseguiamo lavorando una maglia per ciascun punto fino ad arrivare all'angolo nell'ultimo punto disponibile ripetiamo la sequenza maglia bassa catenella ruotiamo il pannello maglia bassa nello stesso punto di base proseguiamo ora lavorando una maglia bassa per ciascun giro di lavorazione fino ad arrivare qui al nostro quarto e ultimo angolo che andiamo a completare insieme ogni angolo deve essere composto da tre punti maglia bassa catenella e maglia bassa la prima maglia bassa di questo angolo l'abbiamo già lavorata è la prima maglia del nostro giro di perimetro ci restano quindi da lavorare un'altra maglia bassa e la catenella lavoriamo la maglia bassa nello stesso punto e andiamo ad eseguire la catenella utilizzando un ago così da chiudere in modo invisibile il nostro giro di perimetro allunghiamo l'asola sfiliamo l'uncinetto e tagliamo il filo sfiliamo il tutto e poniamo il filo su un ago con l'ago passiamo sotto ad entrambe le costine della prima maglia bassa lavorata per il giro di perimetro dal retro del pannello verso di noi dopodiché torniamo all'ultimo punto basso lavorato questa volta passiamo in mezzo tra le due costine che compongono il punto portando il filo sul retro del pannello e blocchiamo poi il filo sul retro all'interno del lavoro completato il giro di perimetro o scontorno il mio pannello ha raggiunto le misure definitive di 25 per 25 centimetri ho già lavorato un primo pannello questo è il secondo devo solo ripetere ancora una volta gli stessi passaggi per ottenere il mio terzo pannello completati i nostri tre pannelli uguali dobbiamo ora cucirli insieme per creare la nostra borsa per quanto riguarda la fodera di questo progetto avete due possibilità potete foderare ogni singolo pannello oppure realizzare una parte della cucitura e creare poi un unico pannello per la fodera ovviamente seguendo le forme nel vostro progetto come assemblare queste tre parti i miei pannelli sono dei quadrati o infatti la stessa misura in centimetri in larghezza e in altezza ma per quanto riguarda il numero di punti su ciascun pannello ci sono delle differenze tra il numero di punti presente alla base e nella parte superiore del pannello il numero di punti presente su ciascun lato se ricordate per avviare il mio pannello avevo realizzato 31 catenelle mentre per quanto riguarda i giri di lavorazione ho eseguito 40 giri c'è quindi una sostanziale differenza nel numero di punti presente sul lato in quello presente alla base devo tenere presente nel mio caso questo fattore quando andrò a cucire le mie tre parti per la cucitura dovranno infatti combaciare i lati con lo stesso numero di punti su ciascun pannello e poiché la lavorazione utilizzata non è reversibile ogni pannello presenta un fronte e un retro dobbiamo piegare ogni pannello a metà in modo da formare un triangolo e all'esterno del triangolo dovremo avere ovviamente il fronte di ciascun pannello poniamo davanti a noi quello che diventerà il pannello alla base della borsa questa è la parte superiore questa è la parte inferiore del pannello quella dove abbiamo avviato le nostre catenelle questo pannello lo voltiamo sul retro facciamo combaciare l'angolo superiore sinistro con l'angolo inferiore destro e ruotiamo il tutto essendo un quadrato queste due parti del vostro triangolo vi sembreranno perfettamente uguali in realtà sulla parte sinistra abbiamo meno punti rispetto a quelli che abbiamo sulla parte destra tenendo piegato il nostro lavoro in questo modo lo mettiamo da parte e passiamo al pannello di destra mettiamo il pannello tenendo sempre la parte con le catenelle di avvio rivolte verso il basso mentre nella parte superiore l'inizio del giro di perimetro voltiamo il pannello e facciamo combaciare l'angolo superiore destro con l'angolo inferiore sinistro questo sarà il triangolo sulla destra della nostra borsa lo incliniamo leggermente in questo modo e facciamo combaciare le due parti in questo caso vanno a combaciare i due lati con più punti di entrambi i pannelli terzo e ultimo pannello quello che diventerà il triangolo di sinistra nel nostro progetto poniamo sempre il pannello davanti a noi con alla base le catenelle di avvio e nella parte superiore il giro di perimetro e come sempre voltiamo il pannello e andiamo a far combaciare l'angolo inferiore sinistro con l'angolo superiore destro in questo modo ruotiamo il nostro triangolo e lo facciamo combaciare con le altre due parti della nostra borsa in questo caso vanno a combaciare i due lati con meno punti se desiderate un'unica fodera per tutti e tre i pannelli una volta posizionati non dovete far altro che aprirli in questo modo e realizzare una fodera di questa forma andrò ad eseguire due cuciture partendo da qui dalla punta del triangolo centrale cucirò questo triangolo a quello di sinistra partendo dalla punta scendendo e tornando verso l'alto e andrò poi a cucire sempre il triangolo centrale a quello di destra partendo dalla punta scendendo e tornando indietro ovviamente non è obbligatorio rispettare questo ordine di cucitura se preferite cucire prima il triangolo di destra rispetto a quello di sinistra potete farlo tranquillamente per distinguere il triangolo inferiore da quello di sinistra vado a posizionare due marcatori colorati su ciascun pannello vado ora ad aprire i miei pannelli in questo modo è volto il mio lavoro e partendo da questo punto dall'alto vado ad eseguire la mia cucitura dalla posizione in cui siamo dobbiamo prendere solamente la metà costina più vicina a noi di ciascun punto che ci si presenta con l'uncinetto vado quindi a prendere solo metà la costina della mia catenella in questo modo su un pannello e sull'altro faccio un cappio lo pongo sul mio uncinetto e lo porto attraverso e vado poi a bloccare il tutto facendo una catenella per aiutarci in questo passaggio possiamo anche prendere i due pannelli e farli combaciare in questo modo sui due punti successivi e prendo solo metà costina su un pannello e metà costina sull'altro prendo il filo lo porto attraverso ed eseguo un punto basso coppia di punti successiva metà costina da una parte e metà costina dall'altra lavoriamo ancora qualche punto per vedere poi il risultato sul fronte del lavoro voltando il lavoro dobbiamo ottenere questo risultato queste sono le costine interne dei punti che abbiamo tralasciato in fase di cucitura sui due pannelli prendendo solamente le costine più esterne si forma questo spazio qui al centro e rimangono libere le costine centrali formando questo gradevolissimo effetto completata la cucitura qui al centro tra i nostri due pannelli dobbiamo eseguirne una seconda che andrà a coinvolgere le due parti inferiori di ciascun pannello rimosso l'uncinetto possiamo piegare la nostra lavorazione in questo modo mantenendo in alto la cucitura appena eseguita continuiamo a unire due pannelli esattamente nello stesso modo scendendo lungo questo lato fino ad arrivare in questo angolo nell'angolo abbiamo le nostre due catenelle ne prendiamo sempre solo le metà costine più esterne e continuiamo nella nostra cucitura fino ad arrivare all'angolo opposto l'ultimo punto che andrò ad eseguire sarà quello che comprende le due catenelle nell'angolo dopodiché vado ad allungare l'asola sfilo l'uncinetto taglio il filo sfilo il tutto e lo vado a bloccare all'interno del lavoro abbiamo così cucito i nostri pannelli su due lati dobbiamo prendere la nostra lavorazione e rivoltarla al contrario ruoto il tutto in modo da avere frontalmente davanti a me quello che dovrebbe essere il pannello inferiore e in modo da avere la cucitura qui in basso e qui sul lato e devo aprire la mia lavorazione cercando di portare questa cucitura al centro ed ecco qui i due triangoli del mio progetto e dobbiamo ora cucire il terzo e ultimo triangolo i passaggi saranno gli stessi partiremo dalle due catenelle presenti qui nell'angolo e scenderemo per poi tornare indietro sul fronte di questo pannello ho applicato un marcatore azzurro la nostra cucitura deve essere uguale alla precedente quindi svolta sul rovescio del lavoro apro quindi il mio pannello e volto tutto insieme da questa posizione con un nuovo filo ci agganciamo nelle due catenelle presenti in questo angolo e con l'uncinetto andiamo a cucire lungo questo lato fino ad arrivare a questo angolo dovremo continuare a cucire insieme le due parti unendo questo lato a questo dovremo quindi piegare la nostra lavorazione in questo modo e continuare ad unire i nostri punti ovviamente dovrete lavorare dall'interno della borsa se vi trovate in difficoltà potete sempre voltare tutto il lavoro e proseguire poi nella vostra cucitura fino ad arrivare qui l'ultimo punto che andremo ad eseguire sarà quello che comprenderà le catenelle presenti in ciascun angolo dopodiché tagliamo il filo e lo blocchiamo all'interno del lavoro una volta completate tutte le cuciture andiamo ad eseguire un giro di perimetro o scontorno di tutta la parte superiore della borsa questo andrà a richiamare le cuciture che abbiamo appena eseguito ma soprattutto darà sostegno qui al punto di incontro dei nostri tre pannelli scegliamo un punto qualsiasi lungo uno dei due lati del nostro progetto ed entriamo nella maglia che abbiamo scelto prendendo solamente la costina più esterna del nostro punto la costa retro la più lontana rispetto a noi carichiamo poi il filo sull'uncinetto lo portiamo attraverso prendiamo il filo e blocchiamo il tutto procediamo lavorando una maglia bassa in costa retro su ciascun punto che ci si presenta lavorato l'ultimo punto su questo pannello prima di passare al successivo vi consiglio di prendere un punto qui sotto ai due fili nella parte superiore dell'angolo dal quale sono partite le nostre cuciture in questo modo daremo più stabilità al tutto vado quindi sotto ai fili della mia cucitura lavoro un punto basso e mi sposto poi sul pannello successivo sempre in costa retro proseguo poi lavorando una maglia bassa in costa retro su ciascun punto che mi si presenta passando poi sul retro del mio lavoro mi ritroverò a lavorare un altro punto al centro della cucitura dall'altro lato del mio progetto saliremo poi su questo lato del pannello e torneremo indietro fino a ritrovarci qui dove abbiamo cominciato questo giro di rifinitura che andiamo poi ovviamente a concludere insieme lavorata l'ultima maglia bassa in costa retro sull'ultimo punto disponibile andiamo ad allungare l'asola sfiliamo l'uncinetto e tagliamo il filo sfiliamo e poniamo il filo su un ago con il nostro ago dobbiamo passare sotto ad entrambe le costine della prima maglia bassa in costa retro completa che abbiamo lavorato e portiamo il filo con noi torniamo poi indietro all'ultima maglia bassa in costa retro lavorata e in questo caso passiamo al centro tra le due costine che compongono il punto abbiamo così chiuso in modo invisibile questo giro di rifinitura e non ci resta che bloccare il filo all'interno del corpo borsa parliamo di chiusure solitamente per questo modello di borsa la masa si va a creare una sorta di piccola patellina che chiude poi con un bottone oppure si inserisce direttamente all'interno del lavoro un bottone magnetico in entrambi i casi vi consiglio di utilizzare quei bottoni magnetici con le alette per andare a cucire così da non avere parti in metallo da nascondere all'esterno della borsa nel mio caso non ho un bottone di questo tipo aspetto di averne uno e di scegliere una fodera adatta per questo modello per andare ad applicare la mia chiusura in linea generale potete quindi applicare qui al centro un bottone magnetico oppure con degli avanzi di filato creare una piccola patellina un rettangolo lavorato all'uncinetto da cucire sul retro del lavoro portare in avanti e andare poi a bloccare con un bottone passiamo quindi a vedere insieme come realizzare il nostro manico per prima cosa posizioniamo gli anelli con moschettone proprio qui sulle punte del nostro progetto dobbiamo farlo passare all'interno della lavorazione prendendo entrambe le parti della nostra borsa in particolare io l'ho fatto passare qui alla base del giro di perimetro o rifinitura che ho eseguito a punto basso passando da una parte e dall'altra il nostro manico o tracolla sarà eseguito a punto basso e lo andremo a lavorare sulla lunghezza dobbiamo quindi avviare tante catenelle quante saranno necessarie per ottenere la lunghezza desiderata non abbiamo multipli da rispettare l'unico accorgimento che mi sento di darvi è questo poiché la lavorazione a punto basso nel tempo tende un pochettino a cedere cercate di tenere la misura del vostro manico tracolla leggermente più corta ma soprattutto di lavorare tutti i vostri punti nel modo più stretto possibile un altro piccolo consiglio quando realizzate il vostro cappio lasciatevi sempre un pochettino di filo in più questo filo in eccesso vi servirà per cucire questa estremità il vostro anello con moschettone nel mio caso ho avviato 90 catenelle che corrispondono a circa 54 cm vado ora ad aggiungere una catenella di supporto e torno indietro nella mia novantesima catenella entro nella catenella prendo il filo e lavoro un punto basso vado a porre un marca punti su questa maglia che ho appena realizzato e proseguo lavorando una maglia bassa in ciascuna catenella che mi si presenta fino ad arrivare all'ultima catenella disponibile nell'ultima catenella disponibile andremo ad eseguire un aumento 3 maglie basse nella stessa catenella di base così da formare la curva il nostro angolo lavoriamo quindi una due ruotiamo il lavoro e tre maglie basse nella stessa catenella di base davanti a noi abbiamo ora le catenelle con le quali abbiamo avviato il tutto da questa parte del lavoro dobbiamo lavorare una maglia bassa in ciascuna catenella fino ad arrivare all'ultima catenella disponibile l'ultima catenella disponibile sarà questa dalla quale nasce la prima maglia bassa che abbiamo lavorato per questa parte del progetto entriamo quindi in questa catenella e lavoriamo un punto basso per completare la nostra lavorazione andremo ora a creare una chiusura invisibile utilizzando un ago allunghiamo quindi la nostra asola sfiliamo l'uncinetto e vi consiglio di lasciarvi un pochettino di filo in più così potrete sfruttarlo per cucire questa estremità all'anello moschettone con il nostro ago dobbiamo entrare qui sotto alle due costine della maglia bassa che avevamo segnato col nostro marcatore rimosso il marcatore passiamo sotto ad entrambe le costine prendiamo il filo dopodiché torniamo indietro all'ultima maglia bassa lavorata questa volta passiamo al centro tra le due costine che compongono il punto portando così il filo sul retro del lavoro dobbiamo far passare le estremità del nostro manico o tracolla all'interno dell'anello moschettone ripiegare verso l'interno e andare a cucire passiamo in questo modo ripieghiamo verso l'interno utilizzando il filo in eccesso con il nostro ago andiamo a cucire insieme queste due parti così da fissare il nostro manico o tracolla ripetiamo poi gli stessi passaggi sull'altra estremità quali sono le misure definitive abbiamo 35 centimetri in larghezza per 35 centimetri in altezza qui fino alla punta se consideriamo anche il manico in tensione abbiamo un'altezza definitiva di 55 centimetri abbiamo utilizzato solamente una rocca di filato inda di borgo dei pazzi firenze e due anelli con moschettone pochissimi materiali per un progetto che potete replicare in tantissimi colori e soprattutto perfetto per qualsiasi stagione vi ricordo che nel box informazioni subito sotto il video troverete tutte le informazioni per acquistare i materiali che ho utilizzato e troverete anche i contatti di borgo dei pazzi firenze il numero dell'assistenza è sempre disponibile per aiutarvi in tutti i vostri acquisti creativi questo progetto vi è piaciuto l'avete trovato interessante fatemelo sapere con un commento proprio qui sotto il video e ovviamente se avete gradito questo tutorial con un bel pollice in su vi invito inoltre se ancora non l'avete fatto ad iscrivervi qui sul canale per non perdere tutti i prossimi progetti che ho in programma per voi perciò con questa mia personale versione della borsa masa io vi saluto vi auguro come sempre buona creatività e spero di rivedervi molto presto in un nuovo video sempre qui sul mio canale youtube a presto a presto